nel vangelo di luca si parla di gesù che sulla spiaggia incontra i pescatori pietro era di pessimo umore perché non aveva pescato nulla e lui invita dopo aver parlato con la gente a prendere il largo e trovare nuove acque per pescare prendere il largo è d'invito ad affrontare il mare aperto è d'invito a guardare un po più in là di quello che vediamo adesso è l'invito anche a non a non accontentarci di ogni cosa prendere il largo significa mettersi in gioco avere il coraggio di affrontare anche nuove sfide e tu senti di avere questo coraggio oppure pensi che ci sia qualcosa in te che ti ferma e se pensi a qualcuno che ha avuto coraggio di prendere il largo in questo momento a chi pensi ebbene prepararsi alla cresima non è prepararsi semplicemente a un sacramento e poi finita lì e scegliere chi vuoi essere e se in quello che scegli il signore c'entra oppure no anche questo è prendere il largo ma gli altri non vogliono ma tu hai provato a prendere il largo perché il sacramento della cresima come tutti i sacramenti ti offre un dono che diventa tuo ma solo se tu lo fai tuo solo se fai grandi scelte è come se la cresima si attivasse per renderti forte e capace di fare la differenza ma solo quando tu deciderai di fare la differenza la cresima ti rende capace di assomigliare a cristo per certi versi avendo la sua grazia che ti rende ogni giorno più speciale ma solo se tu lo vuoi non accontentarti non fare solo cose semplici o banali prova a guardare un po più in là ed è per questo che ti affidiamo un testo di robert baden powell quando da ragazzo cominci il viaggio della vita sei naturalmente portato a pensare di essere solo uno tra tanti e a credere quindi che la cosa migliore da fare sia seguire la maggioranza questo modo di pensare è completamente sbagliato ricorda che tu sei tu sei tu che devi vivere la tua vita e se vuoi riuscire a raggiungere la felicità devi essere tua a guadagnartela nessun altro può farlo per te e nel viaggio della vita devi spingere la tua canoa con la pagaia non remare come in una barca altri è vero preferiscono una navigazione passiva facendosi trasportare dal vento della fortuna o dalla corrente del caso è più comodo che remare ma è ugualmente pericoloso io preferisco che uno guardi davanti a sé e sappia condurre la sua canoa cioè si apra da solo la propria strada guida da te la tua canoa stai partendo dal ruscello della fanciullezza per un viaggio avventuroso di lì passerai nel fiume dell'adolescenza poi sboccerai nell'oceano della virilità per arrivare al porto che vuoi raggiungere sulla tua rotta incontrerai difficoltà e pericoli banchi di nebbia e tempeste ma senza avventure la vita sarebbe terribilmente monotona se saprai manovrare con attenzione navigando con fedeltà e allegra tenacia non c'è motivo per cui il tuo viaggio non debba essere un completo successo per piccolo che fosse il ruscello da cui un giorno sei partito che la tua avventura con il signore a partire della cresima porti te a fare scelte grandi io 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 Grazie.